L'ex capitano del Pisa, Francesco Favasulli, classe 83, piace all'Aquila. La mezzala sinistra e scadenza di contratto è stato proposto dal suo agente al club Rosso-Blu, ma nel frattempo hanno chiesto informazioni su di lui la Juve Stabia e il Savoia. In alternativa il responsabile dell'area tecnica, Ercole Di Nicola, ha già altri nomi sulla lista. Favasulli ha una grande esperienza sia in Serie B, Messina ed Ascoli, che in Lega Pro, Teramo, Cavese e Martina. Nella stagione appena conclusa ha realizzato tre reti in 21 presenze. Intanto si continuano a monitorare le categorie minori. Il ritiro ad Amatrice, oltre ad Alessandro Mirarco, ci sarà in prova un altro giovane di buone promesse, come Saccucci del Colleferro, girone B di eccellenza laziale, convocato anche nella nazionale Under 17 della Lega Nazionale di Calcio di Lettanti. Il Teramo, invece, non è riuscito a riscattare il cartellino di Pier Antonio Sassano, che torna quindi interamente nelle mani del Trapani. Potrebbe però essere un arrivederci. Nei prossimi dieci giorni, infatti, Biancorossi potrebbero accordarsi con la società siciliana per avere l'esterno in prestito a titolo definitivo. È un'ipotesi al vaglio del direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, ma la sensazione è che il Teramo tornerà su Sassano solo se il mercato non dovesse offrire alternative. Tutto come previsto, invece, per le restanti con proprietà. Petrella, Cenciarelli e Casolla sono passati interamente nelle mani della società Biancorossa, con Casolla che molto probabilmente verrà girato in prestito. Rinnovata, invece, per un'altra stagione la comproprietà di Serraiocco con il Brescia, con l'estremo difensore che andrà comunque via da Teramo. Infine, il cartellino di Ciro Lucchese, prodotto interessante del settore giovanile, è stato acquistato interamente dal Parma.